La tassa di soggiorno ad Ostuni si comincerà a pagare a partire dal 1 luglio, soddisfatti dunque albergatori e tour operators che dopo tante proteste e lettere di disdette hanno visto accolta la loro richiesta di proroga da parte dell'amministrazione comunale della città bianca. La decisione è scaturita al termine di un confronto proprio tra comune e operatori del settore turistico. Da un lato le ragioni dell'amministrazione che si trova a fare i conti con una serie di opere pubbliche e servizi che hanno un costo. Dall'altra la federalberghi che è costretta a registrare il malcontento dei visitatori stranieri, temendo che quest'ultimi possano scegliere mete differenti da Ostuni e dalla sua marina. Messe sul tavolo le ragioni dell'uno e dell'altro è stato trovato l'accordo. La tassa slitta per dare il tempo a tour operators di adeguare i prezzi dei pacchetti vacanza che d'ora in poi includeranno quelle tanto discusse 2 euro al giorno a turista. Questa decisione è stata così formalizzata con una delibera di giunta, ma non solo è stato anche deliberata l'opportunità di dare a ogni turista pagante anche una carta di servizi che darà diritto ad una serie di sconti su tutto il territorio. L'incontro tra comune e operatori turistici ha dato vita inoltre ad un comitato formato dai rispettivi rappresentanti che abbia il compito di monitorare le attività e le iniziative legate al turismo.